Allora, manca ormai poco all'inizio di questa stagione, intanto partiamo da questa serata. Bello vedere il palazzetto pronto per salutarvi e per augurarvi una buona stagione, no? Quali sono le sensazioni? Sì, sicuramente è bello vedere il palazzetto riempirsi. Mi auguro che come la scorsa stagione, anche quest'anno, ci vengano a vedere tanti tifosi perché abbiamo bisogno del tipo. Stiamo cercando di dare il massimo per iniziare al meglio possibile domenica contro Valle Fogna. Ecco, veniamo a questa partita di domenica, esordi. Intanto, quanta voglia c'è di iniziare davvero a fare sul serio e come arrivate a questo appuntamento? C'è tantissima voglia perché appunto è sempre bello riniziare una nuova stagione, anche con una nuova squadra e penso che arriveremo molto agguerrite, anche se non ci sarà la squadra completa per delle questioni legate a infortuni. Riusciremo a cavarci nella migliore maniera possibile, come abbiamo fatto in queste amichevoli, giocando anche fuori ruolo. La grinta sarà, diciamo, alla base. Ultima cosa a livello personale, insomma, è passato adesso un po' di tempo ovviamente da quando si è arrivata a Cuneo, ci siamo con l'inizio della stagione, come sta andando questa esperienza, come ti trovi con le compagni, insomma, anche tu quanta vogliai di scendere in campo davvero per la partita ufficiale con questa nuova maglia? Io ho tantissima voglia di scendere in campo e riuscire a dare il massimo e mi sono trovata subito bene sia con le compagni che con lo staff e Cuneo è una città stupenda e ho seguito subito il calore dei pifosi, quindi mi sto trovando molto bene.